Per i lavori di restauro nel Duomo di Mestre iniziati lo scorso luglio, l'investimento è stato di 912.000 euro, 506.135 arrivati dalla CEI tramite l'otto per mille, 72.000 dal comune in due tranche, 20.000 dal patriarcato, 98.000 dalle offerte dei fedeli e 186 dalla parrocchia tramite un prestito chiesto a un'altra realtà diocesana da restituire in dieci anni. Monsignor Bernardi, il parroco del Duomo, in occasione della festa del patrono di San Michele e anche a Natale, aveva rivolto un appello alla cittadinanza per sostenere i costi dei lavori e durante la conferenza stampa di fine restauri ha ribadito «Possiamo essere soddisfatti, la gente ha fatto la sua parte, mancano invece all'appello le istituzioni al di fuori del comune e i grandi benestanti da cui non è arrivato nulla». Ma sia sempre in tempo, conclude Monsignor Gianni, chiediamo un aiuto per ridurre la quota parte in carico alla parrocchia. Il Duomo è la chiesa madre della città.